Quattro giorni dopo la sfida di San Siro contro l'Inter cambia solo due pedine nell'undici iniziale Benitez ma il suo Liverpool è sotto al quinto minuto per il gran gol con il destro da fuori del cieco Mateoski. Prima rete in Premier League per lui, lasciato un po' libero, trova un gran destro da fuori nel Liverpool.